Ok, questa è una scarpa Tracker 110, una scarpa studiata per la sciata femminile. Abbiamo uno scarpone di alta gamma che si può tranquillamente posizionare sia in pista che anche fuori pista. È infatti munito di Ski & Work, ha un sistema Recco di ricerca, 4 ganci micrometrici, un sistema di allargamento per un piede caldo-fredo che può allargarsi, ha tranquillamente di 2 mm e anche oltre. Abbiamo una suola intercambiabile sui tacchi quando si consumano, in più una parte centrale arpionata per riuscire a camminare sulla neve senza scivolare. Direi che è una scarpa con un'ottima calzabilità in quanto che è agevolata da questo peluscino interno per facilitare l'entrata e l'uscita. È una scarpa molto comoda che riesce a sopperire sia a una sciata tecnica, in quanto è un 110 di flex, che anche a una sciata morbida, in quanto che riesce a allargare e stare tranquillamente in pista.